Ennesimo intervento miracoloso al reparto di gravidanza a rischio dell'azienda ospedaliera Ruggi di Salerno che si conferma centro d'eccellenza a livello nazionale. Lo scorso 15 febbraio si è scritta la parola lieto fine al termine di quello che è stato un vero e proprio calvario per una professionista salernitana di 43 anni. Un calvario cominciato molti anni prima quando la donna scoprì di essere affetta da fibromatosi uterina una patologia che provoca la continua formazione di numerosi miomi all'interno della cavità uterina. La 43enne ha scoperto di aspettare un bambino ma nessun ginecologo voleva assumersi la responsabilità di eseguirla. La donna infatti aveva già subito proprio a causa della sua patologia tre interventi di asportazione di tumori benigni ed era stata sottoposta alla ricostruzione dell'utero oltre a tutta una serie di altre complicanze. Il suo sogno di maternità come dicevamo si è avverato lo scorso 15 febbraio quando dopo essere stata seguita dal professore Raffaele Petta direttore dell'unità operativa gravidanza a rischio dell'ospedale Ruggi di Salerno che ha preso in cura la paziente monitorando costantemente la gravidanza ha potuto finalmente stringere al petto la sua bimba un miracolo di un chilo e 980 grammi. È una storia dunque a lieto fine quella che vede protagonista l'avvocatessa salernitana che con il parto ha vinto la scommessa più importante della sua vita riuscendo a portare a termine della gravidanza ritenuta impossibile da molti dei dottori che l'avevano in cura prima. Madre e figlia stanno bene e presto potranno tornare a casa.